Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vi parlo di Bybit e nello specifico vi parlo di una super promo che stanno facendo in questo momento per aver lanciato diciamo sul mercato la loro carta crypto ovvero una carta un po' come la Binance Card, anche se vabbè lasciamo stare ma vi devo dare una news al riguardo ma ne parliamo un'altra volta, una carta sostanzialmente che è collegata al vostro account sull'exchange che vi dà la possibilità di spendere le vostre crypto per fare acquisti, insomma comprare cose su Amazon, benzina, qualsiasi cosa insomma una vera e propria carta per spendere le vostre crypto. E cosa stanno facendo? Ovviamente hanno fatto questa campagna promozionale per lanciare appunto queste carte avete la possibilità di guadagnare 10 dollari all'iscrizione e ben 20 dollari per ogni singolo amico che inviterete per fare questa carta e ragazzi non ci sono limiti di inviti quindi intanto vi scrivete voi, fate i passaggi che poi vi mostrerò qui nel video e vi beccate 10 dollari invitate 5-10 amici, vi beccate 100-200 dollari e così via fin quando durerà questa promozione e fino a quanto durerà questa promozione non lo sappiamo quindi mi raccomando affrettatevi perché ripeto non si sa quando scadrà effettivamente questa promo si tratta comunque di una carta che può esservi sempre utile a costo zero e comunque vi fa guadagnare un bel bonus quindi insomma fossi in voi ne approfitterei assolutamente adesso vediamo subito come si fa tutto quanto prima di iniziare però mi raccomando lascia un bel like anche iscritti al canale se non l'hai già fatto perché è completamente gratuito però faresti veramente tanto per me sigla e partiamo subito allora ragazzi siamo qui su Bybit sono sulla pagina relativa al referral program della Bybit Card allora come funziona? in sostanza hanno creato da pochissimo questa nuova carta collegata all'exchange di Bybit allora sharing is caring entrambi tu e il tuo referente sarete ricompensati quando fanno la prima transazione con la carta di Bybit quindi punto numero uno chi effettivamente effettua il referral quindi chi invita guadagna 20 USDT quando il tizio invitato fa l'appliese per la carta di Bybit e completa la prima transazione inoltre ragazzi guardate qui nota non è necessario che tu sia un possessore della carta per effettivamente fare il referral quindi non è proprio necessario però insomma perché no io ve lo consiglio punto numero due invece il reward per chi invece viene invitato guadagna 10 USDT quando completi la prima transazione vediamo poi bene un po' meglio insomma come funziona primo invita un amico utilizzando il referral link o il codice e ragazzi basta cliccare qui su invite now e vi spunta effettivamente il referral code o addirittura tutto il link che ovviamente vi lascio qui sotto in descrizione quindi se volete guadagnare questi 10 dollari in modo veramente molto molto semplice e tra l'altro dare un piccolo contributo a questo canale iscrivetevi dal link che vi lascio qui sotto in descrizione tra l'altro è anche quello che vedete qui sulla pagina in questo momento ed eventualmente se dovesse chiedervi un referral code dovete inserire questo di qua ma tranquilli perché vi lascio anche questo sotto in descrizione mi raccomando eventualmente se non vi dovesse spuntare il codice già inserito nella pagina di registrazione per richiedere la carta inserite assolutamente il codice perché altrimenti non vi daranno assolutamente nessun bonus quindi sarebbe effettivamente un peccato questo per effettivamente ottenere il codice e il link per iscrivere i vostri amici date questo codice ai vostri amici conoscenti insomma chiunque vogliate fate fare l'apply quindi è necessario chiaramente registrarsi fare il che vuoi si e tutto quanto insomma ragazzi tutte le solite cose che ormai siete sicuramente abituatissimi a fare caricate il vostro conto diciamo della carta con almeno 15 USDT io vi consiglio di non caricare di meno e fare una transazione di almeno 5 dollari personalmente vi direi se non sapete che cosa acquistare comunque non vi serve nulla in generale magari potete fare come ho fatto io ovvero l'ho utilizzata andando ad acquistare un buono Amazon da 5 euro in questo modo mi sono ritrovato praticamente il credito su Amazon da utilizzare per qualsiasi cosa volessi acquistare sicuramente è molto molto comodo non dovete spendere effettivamente soldi perché vi rimangono per fare acquisti su Amazon e potete usufruire del bonus e vi prenderete praticamente questi 10 dollari questi 10 dollari vengono accreditati dopo 14 giorni lavorativi quindi tendenzialmente tra i 15 e i 20 giorni vi arriverà in automatico questo bonus direttamente sul vostro account una volta che avrete fatto l'apply andrete qui sulla sezione card e troverete la vostra sezione qui c'è la mia Bybit card ho già effettuato io un acquisto ovviamente ancora non mi è arrivato il bonus ragazzi perché l'ho fatto praticamente un paio di giorni fa quindi ancora devo attendere per ricevere il bonus ma è una cosa già testata e funzionante ovviamente come vi ho fatto vedere anche poc'anzi è una campagna referral ufficialmente lanciata da Bybit stessa quindi non c'è assolutamente alcun rischio quindi una volta entrati qua avrete la possibilità di avere la vostra carta virtuale sin da subito attentissimo però ragazzi fare un'altra cosa per guadagnare il bonus è necessario andare a richiedere la carta fisica anche in questo caso costo zero nessun costo di manutenzione proprio niente tuttavia dovete necessariamente ordinarla se volete il bonus è veramente semplicissimo vi lascerò il link qua sotto in descrizione possibilmente vi lascerò un elenco numerato di tutte le operazioni necessarie da fare in modo tale che potete seguirle in maniera più veloce vi basterà semplicemente inserire tutti i vostri dati poi dopo circa un paio di settimane anche in quel caso vi arriverà la carta ovviamente per evitare di dover aspettare tutto quanto questo tempo prima di prendere il bonus io vi consiglio di utilizzare la carta virtuale che avrete a disposizione sin da subito non appena vi accettano effettivamente l'apply per la carta io personalmente ho utilizzato questa qui che vedete per andare a effettuare il mio acquisto su Amazon come si fa però a depositare all'interno di Bybit è veramente semplicissimo il metodo che io consiglio di più in assoluto è andando su Bycrypto e facendo Fiat Deposit perché scelgo Fiat Deposit? perché in questo modo è possibile andare a depositare utilizzando il bonifico SEPA con appena 1.0.19% di fee oppure minimo 1€ tra l'altro se utilizzate degli strumenti come BBVA o Revolt o comunque qualsiasi altro conto che abbia il bonifico istantaneo vi arriverà tutto nell'arco di 5-10 minuti quindi veramente tanta roba una volta che avete fatto comunque il deposito vi sponderanno gli asset presenti all'interno dell'overview vedete vi andrà tutto nella sezione Funding e da qui potrete vedere sia la sezione Crypto in questo caso ho 6 USDT e 67 sia la sezione Fiat dove ho 89 dollari invece volete cambiare questi euro in USDT in modo semplice e veloce veramente il modo più veloce in assoluto andate su Bycrypto cliccate su One Click Buy andate qui selezionate Max su Euro mettete USDT e vi metterà tutti gli euro che possedete effettivamente vi dirà a quanto corrisponde in USDT vi metterà qui come metodo di pagamento EUR Balance quindi tutto quello che è stato fatto con i depositi Fiat e cliccate su Buy with EUR io in questo momento non lo faccio perché voglio mantenere euro sul mio account però insomma veramente semplicissimo che dire per il video di oggi è tutto io vi ricordo che vi lascio qui sotto in descrizione il link, il codice bonus e tutte le varie cose da seguire insomma per ottenere questo bonus veramente interessantissimo tra l'altro vi ricordo non c'è assolutamente alcun limite di inviti che potete fare potete invitare tutti gli amici che volete più ne invitate chiaramente più potete guadagnare tramite questa promo vi ricordo che non c'è attualmente una scadenza quindi potrebbe scadere da un momento all'altro perciò se volete approfittarne fatelo il prima possibile qualsiasi dubbio o informazione ovviamente non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti io cercherò di rispondere il prima possibile noi ci becchiamo alla prossima grazie a tutti